Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel solito canale di Gameplay Io ho visto una cosa brutta prima dovete sapere che è un po' che non... sono andato un po' avanti perchè ho avuto problemi con l'audio e quindi non è stato simpatico, non mi piace registrare quell'audio cattivo io qui so che c'è un boss caca cazzo quindi è meglio avere tutte le armi possibili, immaginabili e concepibili dalla mente umana, ratatatata ho spartuto questo AHHHHH besterdo mi fai venire un coccolone coccolone ok 100% tutta un arrogante dunque abbiamo bisogno di quest'arma per esterminare l'abominio risolviamo tutti la faccia allegra ah no era il culo ok quindi stia put***a mi tira asusse le robe eeh si eeeh 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 eaaaah calma republican formaggio ma a a a sei morta toia Cazzo mentira, addosso gli ovuli Ma vaffanculo Te non voglio nemmeno sapere cosa sei Che cazzo sei tu Muori Muori Ah va, ho finito il livello, ok Let's go to the other side Basta Mi sono reso conto solo adesso di essere un idiota Guarda bravo, ingresso sicuro, prendere posizione Sentito quel rumore? No Qui capo, fatemi rapporto Qui capo Sam, qui non c'è niente Non la faccio da qui Per impugno zero Eh vabbè ma sei un coglione, dai Ma come è che succede sempre così? Eh, Ale, cosa è? Eh, minchia, è morto Eh, chi toccerà risolvere tutto? Ovviamente è un coglione di turno Tubo di raffreddamento 2 Disattivato Temperatura di funzionamento del reattore O dei livelli di sicurezza Fa un livello di sicurezza Guarda bravo è andata Non se ne sa nulla Ah, bene È vita a legare la scheda Perché contiene dati cifrati necessari Per inviare il segnale di sicura La flotta Adesso ti alzi, troia Trova quella scheda E fa la fretta Oh, ma non mi devi cagare il cazzo Torretta Già sono un ruolo Non mi piace Yeah, vita, contiamo Brava, Torretta Sei un abba Vai, vai Eeeh, cazzo mi guardi Tieni una scarpata Attenzione Tutto è personale Evacui la struttura Inghia, vabbè Forse non sei tanto nabba Ma scusa Ma se ci sono Scusate Ci sono tutte queste torrette in giro Per la Se tu la città Non c'è C'è queste torrette in giro Per la base Perché questi qua non sono tutti già morti Ma stai a sganciarmi 3 o 4 No Tipo di raffreddamento Disattivato Temperatura di funzionamento del reattore Oltre i livelli di sicurezza Cioè, non hai visto che roba ho fatto Puglia di gas Puglia di gas Oh, cazzo Sto fitto perché ho paura di tutto Puglia di gas Chris Oh papa Sì Sì Oh, ancora un giro di confronto, a te piaceva qualcosa? Yeah, baby, baby baby Non si può sapere perchè è sempre due o più cosi per distruggere quella roba lì? Ah ok, ma stai saltando il vostro pro Torretta No, aspetta Ehi Uh, mi ha scelato Oh, oh Mi lascio installare la mia torretta, troia Non ho capito cosa mi ha tolto colazza Vabbè, let's go Ok Siamo pieni di armi mortali Ehm Perché quando compagno con la... La scelta La scelta Ehm 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 Tutti da... Tutti da un boss magari Così vi sto per tragarmi un attacco Ah, smirato Ma no, ma la sveglia devi spawnare Così in Fallout che ogni volta che ammazziamo qui non becco i punti di esperienza Qui non dico ogni cosa che becco quando non spawno nemici e li ammazzo sono proiettili in me Disattivato Temperatura di funzionamento del reattore Oltre i livelli di sicurezza Oltre i livelli di sicurezza Attenzione Tubo di raffreddamento 2 Disattivato Temperatura di funzionamento del reattore Ciao Sto salvando i tumori dai giovani No, come aspetta Oltre i livelli di sicurezza Oltre i livelli di sicurezza Oltre i livelli di sicurezza Oh, signora Aiuto No Capita adesso perchè non voleva aiutarla Oh, aspetta, signora Uhhh, dicevole Ma che cazzo Ma aspetta, se C'è la testa di cazzo proprio Ponte di servizio operativo Allora Zero, 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 sei tre Zero, sei tre Zero, sei tre Crudicatevi Puttane Oh, cazzo A Guarda Pro Cazzo Lagata Lagata Ah, perchè stai la cazzo Ah, 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 merda Eeeh, vabbè, mi avete rotto il cazzo Eh In dubbio uso questa, capito Anche se contro questi nemici non c'entro per un cazzo C'è ma come... Ufff, cazzo la cazzo Lagriller Ancora Madonna, se mi ammazza è finita, sono una bestia Uhhh E' arrivata back E' sbagliato quando mi davo alto Mi serve un medicate Mi serve un medicate Mi serve un medicate Mi serve un medicate Oh, puttana, apriti No, non faremi male Minch, al minimo morivo Cadevo giù e morivo Ho visto prima una corazza Eeeh Non c'ho nuove di vita, va, va, va Va, va Ok, tu usi il min Non mi piace Come serve 2 2 Attenzione Tubo di raffreddamento 2 Disattivato Temperatura di funzionamento del reattore Oltre i livelli di sicurezza Eeeh Siamo per le palle Ah, ponte, grazie Ok E' stata abbastanza semplice No Attenzione Tutto il personale E' attraverso Basta Ste teste Proprio male i Firenze Proprio 300 Non lo so, però Sono migliose Questo Tanto più questa Ancora Caga mia Che in una maniera Becera Adesso ho spandolizzato il microfono Ok Mi fa piacere, guarda Sono proprio contento quando mi dicono quelle porte di emergenze di emergenze sigillate Attenzione Temperatura Nucleore 135 gradi celsius Questi cazzi Ho E Jessie Vieni 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 Ma che cazzo fai? Li sento dell'Aranocchia! Ma avete rotto la cazzo, meravigliato! Muori! Non ho sbagliato! Eh, eh, ho il cazzo del cazzo! Voglio il potere della rana all'ora! Madonna, sti angolini di merda! Se non la pide rispaunare è venturo! Odio quando scappa al dito! No! No! Non lo so! Come sta sul cazzo questo posto? E' pieno di gente che mi vuole esemplare! Attenzione! Tutti i personali evacui la struttura! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Attenzione! Temperatura nucleo-reattore! 585 gradi celsius! Ho come l'impressione che succederà qualcosa di buono! Beh! Attenzione! Temperatura nucleo-reattore! Oltre i livelli incitabili! Microfono, dove stai andando? Resta con me! Nooo! I best... Non lo so! 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 Potrebbe infilarsi nel culo, per esempio! Ok! Ok! Sono brutti i penditi! Perché fuggi tutto il culo! E va bene! Non lo so! Non lo so! Sì! 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 No! Mai! Mi piace che la port... e perchè non passavo? ma guarda ormai volevo colpire questo ma al solito i cani salissero miseramente mmmh san genna temperatura nucleare a cento gradi celsius eh zia mi ti rompite le balle prendo l'attenzione scusa cambia tubo 2 ma il secondo tubo sti struzzi beceri proprio prendi la scheda questa è la scuola bravo credo c'è una terra molto tigida possiamo fermare la trasmissione da lì come meglio crede consigliere il giappo cinese è ancora vivo il giappo cinese è ancora vivo i giappo cinese non muogliono mai sono i più propri e perchè questo rascarico tubo di raffreddamento 2 attivo guarda questo l'ho fatto da dividere solo per un po' di video ok 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 due domande brutto bastardo perchè si è spawnato alle mie stalle e due perchè come hai fatto come cazzo hai fatto a mancarmi vedi attaccardment sicuro 2 con L'altro pezzo non lo conosco Spero proprio che non mi censureranno Canto così male che mi censurano per un'altra canzone Era triste la battuta, è morto un bimbo in concursi Un bimbo in concursi No Dovrebbe essere aperta la nera No, si è di un brutissimo rumore di ragni Porte d'emergenza ora aperte Sento che qui spawner ha fatto soddisframente e ne avrà altro Oh, cazzo il video mi dice Eh Ahahahah Umilation bitch Eh Si, se lo faccio con questo finisco la mano Un design è complace Mi apparerebbe una cosa alle spalle Anzi, io meno Ma porco di te Mi fai nervosire quello che era Figa, la porta è un'altra mia Di quei poccoloni che la metà mi abbassavano Minti, arrivo sempre al 99 ma come è sto fatto qua? án Cazzo ito Si Cari di merda, ci ho mettato un 30 anni a esplodere Valedette Io Ok Dragon N Pfff Th No. Non è successo. Non è successo nulla. Voi non avete visto nulla. Ah, che male, ho dato due Cagnate sul microfono, mi sono fatto malissimo. Microfono di merda. Ma vale la mia vendetta. E cos'è il Batman? Il Batman... Non perdona? Sono il Joker? Vabbè. Il Joker non perdona nemmeno lui. Sento manualità hardcore. Porta di emergenza ora aperta. Perfetto di emergenza ora aperta. Perfetto di emergenza ora aperta. Funziona! Questo non è piaciuto, ma è proprio un cazzo. Lo dò! Ok. Ok, sono uscito ad andare a motore. Dove sono? Oh mio dio! Sei obeso! Cioè guarda, il lardo proprio! Il lardo proprio! Funziona! Guarda, guarda! Obeso! Lezzo proprio! Ho sentito un thump! E' proprio lì! Io so che qua dietro c'è qualcosa! No! So far so good! Non c'è da nulla però! Closing off al massimo! Oh! Figlieremo le zone! Ah ne no! Allora lì c'è l'armatura ricordiamoci! Oh! Uh! Santa merda! Non male dai! Ma che cazzo! Sono bastardo il gioco! Dai che cazzo! Li hai visto tutti bastardi! Hanno sciocchiato come delle puttane! Cosa devo prenderla un po' dopo la... Ma va bene così! Sono più... Scacco un attimo... Ok... Ma quella è morta, è sicuro quella è morta Eh vabbè, ma allora sei stronzo Cioè, già da dietro, ma non è così così Ciao Oh, cazzo, non ho fatto un po' Anche io faccio il sulto per la runa rapid Ok... Non trovavo che fosse tutto carico E' pronto a sterminare Cosa ero? Cosa ero? Cosa ero? Cosa ero? Eh... Ok... Dunco... F*** Fanculo! Allora... Allora, aspetta Era... Sono sicuro che era qualcosa che mi sente contro tre Grazie a tutti.